Sei giovane, forte, bella, piena di vita, mentre mia figlia marcisce un pezzo per volta in un letto d'ospedale! Sei giovane, forte, bella, piena di vita, ma figlia marcisce un pezzo per volta in un letto d'ospedale! Testate Aanaispe Burgrani Testate Aanaispe Burgrani De La Manama Siсть e cosa am provare nel momento di Un grande senso di... Se posso definire un senso di grande senso di piacere. Il sangue infrattava la nocce. Con sale, con sale! Capace di sottopoldo miliardi, di sbordarti. Sapevano che quella disgrazia mi aveva lasciato come una malattia. Sapevano che non riuscivo ad avere dei... Trapporti normali... Con le donne. Non potevano immaginare cosa aveva aspettato. Le uccide. Le tante a pezzi come bambola. La morte è la più sicura costante degli agreti. Una bambola! E' un'altra uccida bambola! Come l'altra? E mi sarei manzata negli anni. E' un'altra uccida bambola! Grazie a tutti. 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 misantropo a senso unico unico Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti